Bene, benvenuti al terzo appuntamento del ciclo Le Invenzioni del Fare, un ciclo di conversazioni e presentazioni di libri curato da Davide Dalsasso per il programma culturale di Via Farini. Questo appuntamento è dedicato alla fantasia, ne parleremo con Carola Barbero, docente di filosofia del linguaggio e filosofia della letteratura all'Università di Torino, che saluto e ringrazio per la sua adesione a questo invito. Fra i suoi libri citiamo Filosofia della letteratura, Carocci, l'arte di nuotare, meditazioni sul nuoto e la porta della fantasia. Sono solo alcune delle numerose pubblicazioni e introduco come il curatore di questo ciclo Davide Dalsasso, con il quale l'archivio ha il piacere di collaborare dal 2018. Davide Dalsasso è a sinistra di ricerca verso l'Università di Torino, membro di Labont, Center for Ontology, e curatore della rubrica Dialoghi di Estetica per Art Tribune dal 2012, nonché autore del libro Nel segno dell'essenziale, l'arte dopo il concettualismo. Appunto, non ringrazio chi parteciperà e segnalo che i cicli, gli appuntamenti di questo ciclo, saranno resi disponibili attraverso la piattaforma YouTube di Via Farini. E passo quindi la parola a Davide, ringraziandolo ancora. Buonasera, buonasera a tutte e tutti, e grazie anche da parte mia a Giulio Verago e Patrizia Brusarosco e l'archivio Via Farini, insomma, chi ha collaborato per rendere possibile questi incontri, dei quali sono molto contento. Siamo al terzo incontro di un ciclo che sostanzialmente ha così l'ambizione di esplorare un po' il fare, che suona un po' bizzarra come affermazione, ma in fondo si tratterebbe di guardare quello che appunto fanno gli esseri umani, quello che facciamo in quanto esseri umani, tanto sul lato delle arti quanto su quello della riflessione teorica. Quindi l'idea era quella di muoversi appunto, come dice il titolo del ciclo, tra arte e filosofia. Se nei due precedenti incontri ci siamo occupati direttamente di arte, andando a guardare aspetti che sono legati a quello che caratterizza le pratiche artistiche tanto del passato quanto quelle più recenti, ci siamo occupati di aspetti come la installation art, di andare a valutare in che rapporto si collocano le opere con i siti, siamo andati a considerare numerosi aspetti dell'arte contemporanea anche appunto, nel secondo incontro ci siamo occupati di un tema estremamente affascinante, che è quello appunto della improvvisazione, l'abbiamo esplorato da lati diversi, da quello del rapporto con la azione umana, quello con, diciamo così, la sua applicazione, la sua specificità nelle pratiche artistiche, considerando anche per esempio l'ambito della musica. Bene, questa sera ci occuperemo di un tema ancora più intrigante, tema che in effetti appartiene tanto a noi quanto esseri umani perché ci è caro e molto spesso lo ricerchiamo in maniera, come dire, molto curiosa, direttamente o indirettamente, ma poi tema che è legato, potremmo dire, a doppio filo in qualche modo alle stesse pratiche artistiche, è appunto la fantasia. Fantasia che andiamo a esplorare insieme a Carola Barbero, che anch'io ringrazio a mia volta, e tema che andiamo a esplorare considerando direttamente una questione di base che io sottoporrei immediatamente a Carola. Nel tuo libro, che è appunto La Porta della Fantasia, il libro che viene pubblicato da Il Mulino, sostanzialmente vengono proposte, diciamo così, fin dall'inizio due citazioni molto note che sono state formulate in ambito letterario, cioè la fantasia un posto dove ci piove dentro e la fantasia un motore per le invenzioni. Sarebbe bello adesso, come dire così, un po' chiarirci le idee rispetto a questi due spunti che provengono direttamente dalla letteratura, ma poi in effetti partire direttamente con la grande domanda, ma che cos'è la fantasia? Bella domanda. Grazie, grazie mille. Innanzitutto a Via Farini per ospitare questo ciclo di incontri e poi a Davide del Sasso per averlo organizzato e per condurlo. Sono molto contenta di essere qui, sono molto contenta a parlarvi di fantasia. Che cos'è la fantasia? È una domanda difficile che nel libro ho provato a trattare. Il mio punto di partenza spesso nel trattare la fantasia è stato il suo più vicino parente, che è la funzione. Io ho sempre avuto una grande passione per la finzione, soprattutto perché mi consente anche di guardare alla realtà in un altro modo, perché la finzione è una di quelle cose che solitamente viene definita come differente dal reale, o non reale, o alternativa al reale. Ed è per questo che mi piaceva cominciare con questa vignetta da Dylan Dogg, perché qui la grande differenza viene subito messa sul tavolo. Che differenza c'è tra il romanzo e la realtà? Il romanzo deve avere un senso. Ecco, il romanzo è qualcosa che si suppone dotato di senso. Ovviamente qui non si pensa nei romanzi postmoderni o ai romanzi che vogliono essere provocatori, si pensa alle grandi narrazioni. Le narrazioni hanno un senso. E qui notiamo subito un elemento molto interessante che caratterizza la fantasia. Ed è il fatto di essere una facoltà eminentemente umana. Il fatto di vivere nel mondo è qualcosa che condividiamo con tanti altri esseri. Invece la fantasia, la facoltà della fantasia, qualunque cosa sia, e proveremo a vedere che cos'è, sembra essere una facoltà prettamente umana, come appunto quell'azione di dotare di senso, dare un senso. Uno degli autori che più mi hanno accompagnato in questo viaggio che ho fatto una volta varcata la porta della fantasia è stato, non a caso, Italo Calvino. Italo Calvino che in quelle bellissime lezioni che avrebbe dovuto tenere nell'autunno del 1985 a Harvard, le famose Norton Lectures, prestigiosissime, e che peraltro non ha mai temuto perché è improvvisamente morto nel settembre appunto dell'85, e di cui ha scritto completamente le prime cinque, e invece ha soltanto abbozzato l'ultima, che appunto era quella sulla coerenza, un punto non da poco per, diciamo, l'argomento in questione. Comunque Calvino, quando deve addentrarsi nel tema della fantasia, dice che la fantasia è un posto dove ci piove dentro, e lo dice in quella lezione che è dedicata alla visibilità. La constatazione di Calvino in realtà parte da un passo del purgatorio di Dante, che dice che poi piove dentro all'alta fantasia. Quello che però è importante qui non è tanto il fatto che le immagini della fantasia piovano dal cielo, arrivino da qualche parte, e anche capire com'è che questi meccanismi funzionino. E questi meccanismi non funzionano in un unico modo, funzionano in tanti modi diversi. E questo spiega anche perché, se volete, la fantasia è un concetto così difficile da definire. Si potrebbero dare una, nessuna e centomila definizioni di fantasia. In un articolo interessante del 1974, che si intitola Imagination and Perception, e qui vedete già c'è l'assimilazione della fantasia all'immaginazione, che non è automatica, e che peraltro la filosofia delle origini distingueva, e dopo spiegherò perché. Comunque, in Imagination and Perception, Strausson, che peraltro ricalca la definizione platonica di fantasia, distingue tre sensi di immaginazione, tre sensi importanti di immaginazione, che sono stati un po' il fil rouge di queste mie riflessioni. Da un lato, la fantasia e l'immaginazione come capacità di creare immagini mentali. Pensate all'idea che noi abbiamo del fantasticatore, che è sdraiato su un divano e fantastica, non fantastica, è in un mondo diverso, uno gli può chiedere ma dove sei, cosa stai pensando? Fantastica, non ha niente, non ha un libro, non ha musica, non ha niente, è fantastica, lavora con la mente, si costruisce immagini. Poi c'è un'altra accezione di fantasia o di immaginazione che è molto importante, che è quella che la vuole connessa con la creatività. il fantasioso è quello che sa essere creativo, è quello che con la mente fa delle cose. E poi invece la terza accezione, che è quella che peraltro anche Platone aveva molto presente e lo preoccupava molto, è quella che vuole che la fantasia abbia a che fare con le illusioni, o perlomeno con le potenziali illusioni, con gli inganni. è quello che solitamente si dice quando si ribatte a qualcuno, ma queste sono solo fantasie. È qualcosa che non è reale, però detto così può risultare anche una critica. Io posso dire a qualcuno, ma guarda che mi è successo questo e quest'altro, quella ha una certa opinione di me, eccetera, eccetera, e mi si può ribattere, ma no, queste sono solo fantasie, non è vero. Quindi la fantasia come opposto al vero. Ecco, questa definizione di immaginazione che Strosson riprende viene e rispecchia in realtà quanto Platone aveva detto della fantasia. E come vi dicevo prima, tuttavia, l'immaginazione e la fantasia a rigore si vogliono separate originariamente. Perché? Perché mentre l'immaginazione è quella facoltà che tiene traccia dell'assente, ma dell'assente che è stato, la fantasia ricompone liberamente queste tracce. Quindi per portarvi un esempio tipico, l'immaginazione conserva la traccia del cavallo e del corno e la fantasia crea l'unicorno. Qui vedete la potenza, però anche la pericolosità. E qual è la pericolosità? È che crea delle cose che forse non ci sono, che potrebbero esserci, ma che non ci sono. Non è detto che ci siano. Calvino aveva anche una preoccupazione ulteriore quando cercava di definire la fantasia. Lui era, come voi sapete, queste elezioni americane non si chiamavano così originariamente. Le lezioni americane è l'etichetta che poi è stata data alla pubblicazione e derivava in realtà da un modo di chiamare di Pietro Citati questo lavoro che Calvino stava facendo. Perché Pietro Citati, quando andava a trovare Calvino, gli chiedeva sempre, cosa fai, lavori alle tue lezioni americane? Perché erano le lezioni che avrebbe dovuto tenere appunto in America. In realtà il titolo previsto da Calvino era Six Memos for the Next Millennium. E per il prossimo millennio Calvino era preoccupato che questa facoltà così preziosa, ma anche così, vorrei dire, sopravvalutata, ma Calvino non temeva tanto il fatto che fosse sopravvalutata, ma che fosse concepita in un modo sbagliato, come non era. Però lui era preoccupato del fatto che essendo noi così bombardati da immagini avremmo perso la capacità di fare questo lavoro a cui alludevo prima, cioè di mettere insieme delle tracce e creare delle cose nuove. Io penso che questa preoccupazione fosse eccessiva. Mi piacerebbe poi sapere anche cosa ne pensate voi che state ascoltando. Penso che fosse eccessiva anche perché il tipo di motore che la fantasia mette in moto è un motore che funziona, se vogliamo, anche in un altro modo. Non ha per forza da temere queste invasioni di immagini dall'esterno. Ecco, Calvino temeva che magari chiudendo gli occhi non avremmo più visto niente, proprio perché tutte le immagini stavano fuori. Ma su questo ritorniamo. Allora, provando a andare oltre la distinzione quindi tra fantasia e immaginazione e facendo quello che poi di fatto è accaduto nella storia del pensiero, cioè che la facoltà dell'immaginazione e quella della fantasia di fatto si siano fuse, possiamo dire che la fantasia sia appunto la facoltà che fa sì che noi ricombiniamo delle tracce di ciò che non è presente e creiamo qualcosa di nuovo. Questo qualcosa di nuovo può essere possibile, può anche darsi poiché si manifesti come reale, può anche essere impossibile. Pensate ai famosi oggetti contraddittori che tanto hanno appassionato scrittori, artisti e quant'altro. Da un punto di vista filosofico e parlo soprattutto dei filosofi che poi hanno ragionato sui nomi che diamo alle cose che creiamo o che ci sono, a un certo punto un filosofo come Bertrand Russell ha ritenuto di fare una riflessione importante su questi presunti oggetti. Perché? Perché sono sì oggetti che ci possono affascinare. Prima vi ho parlato dell'unicorno, dicendovi abbiamo la traccia del cavallo, abbiamo la traccia del corno, creiamo l'unicorno. Ma pensate quanto la nostra tradizione o il mito sono ricchi di queste entità. Pensate al famosissimo Minotauro, Minotauro che troviamo in tante opere. È un mito greco, ma lo ritroviamo nell'Inferno della Divina Commedia. Lo ritroviamo anche in opere recentissime che appassionano i più o meno giovani. Perché c'è stato in questi ultimi anni un ritorno del mito anche nella letteratura impressionante e a mio avviso bellissimo. Ecco, il Minotauro che è il figlio della regina di Creta è del toro bianco. Quindi è frutto di un'unione, secondo il mito, tra una donna e un toro. E non a caso l'essere che viene creato è un essere mostruoso, perché mostruoso appunto perché non ha una natura definita, che ha il corpo di uomo, gli zoccoli al posto dei piedi, ha il corpo coperto di peli e la testa di toro. Ecco, Russell ci dice che noi di questi esseri dobbiamo fare molto attenzione quando ne parliamo. Perché? Perché Russell dice sembra che noi parliamo di qualcosa, sembra che parliamo del Minotauro, così come prima sembrava che stessimo parlando dell'unicorno. Però, dice Russell, in realtà noi qui stiamo facendo confusione. Russell era un filosofo, era un logico, era un matematico, le confusioni era una cosa che proprio andava evitata, era una cosa pericolosissima. E qual è questa confusione che staremmo facendo? Ecco, in questo passo che poi è diventato molto famoso dell'introduzione alla filosofia e della matematica, che adesso vi leggo, Russell dice che noi, parlando del Minotauro, dell'unicorno, come se fossero creature, come se fossero oggetti, in realtà stiamo confondendo un concetto con un oggetto. Prendiamo un concetto per un oggetto. Infatti scrive in questo passaggio che è diventato un ritornello del dibattito su questi argomenti. Dice Russell, la logica, direi, non deve ammettere un unicorno più di quanto non faccia la zoologia. Infatti la logica ha a che fare con il mondo reale, proprio come la zoologia, benché ne consiglia di solo gli aspetti astratti e generali. E dire che gli unicorni hanno la loro esistenza in araldica o in letteratura o nell'immaginazione è una scappatoia pietosa e ridicola. Ciò che esiste in araldica non è un animale fatto di carne e sangue che si muove e respira di sua iniziativa. Ciò che esiste è una figura o una descrizione verbale. Analogamente, asserire che Amleto, ad esempio, esiste nel suo mondo, cioè nel mondo dell'immaginazione di Shakespeare, con la stessa verità con cui, diciamo, Napoleone è esistito nel mondo comune, significa dire qualcosa che crea deliberatamente confusione oppure che è confuso a un grado difficilmente credibile. E' soltanto un mondo, il mondo reale. Questo è quello che Meinung definirà il pregiudizio nei confronti del reale. Meinung gli dice Russell, tu hai un problema, tu hai un problema importante. Perché? Perché tu hai un pregiudizio. Pensi che l'unica cosa che noi dobbiamo ammettere sia il mondo reale, la realtà. Ma, dice Meinung, io non sono disposto a rinunciare a tutto quello a cui tu mi inviti a rinunciare e quindi proporrà un sistema alternativo. Dimmi Davide. Stavo pensando a questo, Carola. Ti ascolto e intanto immagino una serie di possibili scene. Cioè, quello che tu ci hai raccontato fin qui è questo. Ci sono due filosofi che hanno due punti di vista diversi. Da una parte, per esempio, appunto, Bertrand Russell, dall'altra Alexis Meinung e evidentemente abbiamo che cosa? La possibilità di dibattere tra il frutto dell'immaginazione per un verso che non è tale perché abbiamo detto prima come tu ci hai raccontato che in fondo l'immaginazione ci permette di combinare la fantasia in realtà a questa possibilità produttiva in qualche misura e però abbiamo da considerare gli oggetti che sono diversi e questo è interessante. Allora, qui viene fuori, dopo aver affrontato la grande domanda che cos'è la fantasia l'altra domanda che viene fuori da qui con questa riflessione che ci hai portato di Russell e anche il pregiudizio che gli obietta Meinung è interessante chiedersi questo anche che oggetti sono quelli della fantasia cioè quegli oggetti che tu stai menzionando qui e che vengono riconosciuti per esempio all'interno della scrittura di William Shakespeare o per esempio quelli anche che fanno dire a Calvino che si crea uno spazio diverso un posto dove ci piove dentro di che cosa stiamo parlando a questo punto esatto di che cosa stiamo parlando secondo Russell non stiamo parlando di niente e peraltro la tradizione che Russell ha inaugurato ha avuto una lunghissima fortuna prima di rispondere precisamente alla tua domanda di cui ti ringrazio perché coglie proprio il punto della questione vorrei fare ancora due precisazioni su questa citazione di Russell Russell dice per esempio la logica non deve ammettere un unicorno più di quanto non faccia la zoologia tenete presente che nei bestiari medievali gli unicorni c'erano gli esseri come l'unicorno sono stati eliminati dai bestiari solo in epoca relativamente recente quindi il fatto che in un bestiario fosse obbligatorio includere soltanto gli animali esistenti diciamo non è così scontato evidentemente dipende da quale quello che i filosofi chiamano l'inventario ontologico l'inventario delle cose che vuole ammettere nel suo mondo quelle che vuole ammettere sono quelle di cui è disposto a parlare di cui sulle quali è disposto a impegnarsi eccetera evidentemente Russell aveva un inventario molto sgombro aveva gli scaffali vuoti aveva soltanto le cose reali per il resto non aveva niente era minimalista come si usa adesso adesso che ci sono tutte queste arti del riordino del svuotare le armadi svuotare tutto ecco Russell era uno così essenziale proprio aveva delle cose che gli servivano per la sua logica per la sua ontologia per la sua semantica e quello gli bastava il mondo reale per il resto non gli interessava niente notate che parliamo di uno che ha vinto peraltro il premio Nobel per la letteratura quindi è vero che poi la realtà è sempre più ironica di qualunque fantasia in ogni caso che cosa sono questi oggetti ecco mi hai fatto una domanda molto importante a me in maniera molto spontanea verrebbe da dire sono delle cose create sono dei personaggi prima parlavamo di Hamlet e di Shakespeare qua abbiamo Sandokan di Salgari io vivo a Torino e purtroppo l'autore di Sandokan a Torino ha concluso il suo cammino terreno diciamo così e ha creato in ogni caso questa questa creatura di finzione questo personaggio che è poi diventato immortale già qui vi ho presentato due concetti problematici l'autore è mortale Salgari è stato addirittura anche artefice della propria morte i personaggi della fantasia vivono di più secondo Russell non vivono per niente invece io vi dico che vivono di più sono stati creati da un autore così nell'immaginario l'autore è qualcuno che si mette al tavolo e comincia a scrivere con la penna una volta con il calamaio oggi col computer così non hanno niente hanno la pagina bianca un file nuovo e cominciano a scrivere sperabilmente non come il Jack Torrance dell'Overlook Hotel di Shining che scriveva sempre la stessa frase e questo ha fatto sì che l'opera che ha scritto forse non fosse proprio un capolavoro in ogni caso Salgari per esempio scriveva scriveva potrei dire quasi con un ritmo da sportivo aveva un numero di pagine che tutti i giorni doveva scrivere è riuscito ad affascinare generazioni di lettori ha creato avventure ambientate in posti molto lontani e questo è molto singolare da parte di un autore che non si era mai spinto oltre Brindisi lui ha ambientato ha fatto il famoso ciclo della Malesia che quindi ovviamente voleva che fossero ambientati in Malesia come faceva? come faceva? come funzionava la sua fantasia? come faceva a lavorare in questo senso? non stava alla scrivania tutto il giorno prendeva il tram lui abitava a Torino in colline in corso casale un corso che c'è ai piedi della collina torinese a di là del fiume del fiume Poc prendeva un tram e si faceva portare in piazza palazzo di città dove all'epoca al primo piano in piazza palazzo di città oggi c'è il municipio all'epoca c'era al primo piano di questo palazzo la biblioteca civica e quindi Salgari leggeva Atlanti leggeva documenti leggeva testimonianze perché le leggeva? perché lui in quei posti non c'era mai stato voleva creare qualcosa con la fantasia ma voleva che la sua fantasia nelle sue creazioni fosse rispettosa della storia della geografia degli equilibri politici di quei paesi di cui raccontava in cui ambientava le sue storie qui questo rispetto nei confronti della realtà è fortissimo e di questo la letteratura non si è quasi mai liberata anche i filosofi che oggi si occupano di finzione e di fantasia lavorano sempre con questo lo chiamano reality assumption reality principle reality debt sono sempre diciamo della realtà non ci liberiamo mai anche quando lavoriamo con la fantasia e non a caso di realtà Salgari è morto perché quando è andato a commettere Arachiri come uno dei suoi eroi in questo bosco che c'è vicino all'abitazione presso la quale peraltro risiedeva l'ho fatto proprio per la realtà non perché sando che non gli desse soddisfazione gliene dava eccome tuttavia aveva gli editori che lo perseguitavano aveva una situazione familiare molto complicata e quindi si è suicidato lasciando la moglie in manicomio i figli pieni di debiti e i suoi eroi invece immortali i personaggi di finzione vivono più di noi non mi sentirei di dire che sono eterni perché ci sono buone ragioni per pensare che se tutte le opere scritte per esempio da Salgari fossero distrutte quando anche noi avessimo perso la memoria di queste opere forse avremmo ragione di dire che Sandovan è morto per esempio su questo comunque si può discutere dipende anche qui dallo statuto ontologico o dal tipo di cose che pensiamo che i romanzi siano ecco quando Calvino nelle sue lezioni in particolare penso a quella lezione che si intitola leggerezza spiega come sono creati personaggi di finzione dice qualcosa di molto interessante lui cerca di spiegare proprio il lavoro che si fa quando si creano i personaggi e dice che non si tratta tanto di creare e dice una cosa stranissima dice in realtà si tratta di togliere no? noi dobbiamo togliere peso alle figure umane e rendere trovare delle figure leggere che possiamo mettere nelle pagine perché nelle pagine le persone tutte intere non ci stanno sono troppo pesanti dobbiamo alleggerirle dobbiamo alleggerire le persone dobbiamo alleggerire le città dobbiamo alleggerire i corpi celesti dobbiamo fare in modo di togliere peso a queste cose e di renderle traducibili in linguaggio in parole questo è se ci pensate è una trasformazione fantastica e che ci spiega anche perché noi possiamo fare qualcosa del genere non solo per creare mondi che non esistono come quello di Sandok ancheppur avendo un'ambientazione reale non è una storia reale ma perché è anche importante scrivere della realtà perché la si alleggerisce la si rende un'altra cosa e la si può manipolare in un modo diverso seguo con grande interesse la tua descrizione e questa osservazione rispetto alla leggerezza ha un fascino irresistibile quanto ce l'ha naturalmente il tema della fantasia ma è interessante notare come in effetti questo alleggerire se vuoi aiuti in maniera naturale a rendere anche i frutti della fantasia accessibili aiuti inviti a considerare i frutti della fantasia come gli oggetti su oggetti diciamo qualcosa di più avvicinabile ma invita anche a riflettere su una questione cioè che è un tema che tu affronti nel libro e che è un tema interessante che in effetti a partire proprio da questo elemento che Calvino individua ci è di enorme aiuto per esempio quando noi stiamo pensando alla elaborazione fantasiosa si tratta di una scoperta o di un'invenzione cioè di che cosa ci stiamo occupando qual è il tipo di elaborazione che si fa e soprattutto poi appunto come questa ci porta a ottenere quegli oggetti questo diciamo è un altro punto molto complicato perché diciamo questi due punti quello della scoperta da un lato dell'invenzione dall'altro sarebbero supposti spiegare che modalità di accesso possiamo avere a questi mondi perché se fosse una scoperta noi saremmo in un certo senso ospiti pensiamo alla alla visione platonica per cui noi accediamo ad un mondo che però è già tutto lì preparato quindi noi semplicemente scopriremo delle cose che si danno indipendentemente da noi ma sembra che quando si parla di oggetti della fantasia l'autore faccia qualcosa di più che scoprire sembra che abbia anche delle responsabilità maggiori non a caso se crea delle opere che per varie ragioni sono considerate problematiche noi ce le andiamo a prendere con l'autore no? se no se non ne fosse responsabile non ce la prenderemmo con lui sembra che e su questo spesso si introduce questo concetto di licenza poetica sembra che gli autori siano liberi di fare un po' quello che vogliono con i loro personaggi a meno che uno non si inserisca in dimensioni particolari come quella di Stephen King in Misery non deve morire dove addirittura un lettore va a recuperare l'autore per dirgli no tu quel personaggio lì non ti puoi permettere di farlo morire ecco solitamente gli autori sono abbastanza liberi hanno la licenza poetica dalla loro parte è anche vero che questa grande libertà degli autori spesso fa sì che siano considerati anche poco affidabili pensate agli autori che fanno degli errori magari appunto fanno morire un personaggio poi dopo un po' quel personaggio lo ritroviamo ma non perché è risorto come è successo per esempio a Sherlock Holmes che Conan Doyle ha dovuto far risorgere a un certo punto ma perché magari si è dimenticato che l'aveva fatto morire o pensate alla famosa unica pallottola di Watson Conan Doyle ci dice che Watson è stato colpito da un'unica pallottola poi una volta dice che ce l'ha nella spalla un'altra volta che ce l'ha nel ginocchio e allora qui delle due l'uno o c'è più di una pallottola oppure non è possibile qualche fedelissimo di Conan Doyle ho poi saputo andando a leggere il problema della pallottola di Watson diceva che probabilmente era stato colpito mentre era chinato in avanti e quindi la pallottola in realtà gli ha preso contemporaneamente la spalla e il ginocchio evidentemente era tipo un ginnasta Watson riusciva a piegarsi benissimo in avanti come è difficile che accade comunque è un problema di esegesi delle opere di Sherlock Holmes riguardo alle quali non sono l'applicazione della leggerezza in fondo un modo per rendere per alleggerire il tutto e rendere appunto quel corpo che per intero non ci starebbe e che in effetti fa sì che con la fantasia riesci a muoverti esatto il fruttore paradossalmente carica di lavoro il fruttore o il lettore nel caso delle opere letterarie perché tutte quelle cose che l'autore toglie appunto per mettere in bella forma quelle cose che altrimenti sarebbero dei corpi pesanti delle città enormi eccetera e poi un lavoro invece di riempimento che dovrà fare poi il fruttore il lettore perché se io leggo che c'è un uomo seduto che fuma dovrò immaginarmi quest'uomo in un certo modo che fuma con una mano o se non fuma con una mano avrà la sigaretta tra le labbra avrà degli occhi verosimilmente se mi si dice che un uomo io avrò delle aspettative riguardo al suo fisico penserò se non mi sono dette cose in più che non abbia segni particolari se non mi avrebbero detto che ne so un uomo con una gamba sola o un uomo o con un uncino al posto della mano se mi si dice che l'uomo è seduto e fuma io penserò che posso riempire come voglio io lo potrò immaginare come che ne so Johnny Depp perché mi piace immaginare Johnny Depp quando fuma qualcun altro potrei immaginare un suo amico qualcun altro magari si immagina solo dei tratti sommari c'è questo libro molto bello che è uscito un paio di anni fa di Mendelssohn che si intitola che cosa vediamo quando leggiamo il libro di un pubblicitario non è che abbia delle mire particolarmente scientifiche o accademiche però è molto interessante perché si vede come noi possiamo anche immaginare soltanto delle sorti di bozze dei personaggi abbozzati perché magari ci basta quello se invece ci si dice che ne so che quella donna ha degli occhi verdi magnetici allora magari l'immagineremo tutto un po' sfocata però con due occhi verdi ecco quindi si vede che il lettore deve fare un lavoro importante per arricchire questa leggerezza e in base a che cosa lo fa? De fatto segue delle istruzioni più o meno esplicite che lo scrittore gli fornisce come gliele fornisce? Innanzitutto il genere ci aiuta un genere che può essere letterario cinematografico ci indirizza già che ne so se il genere è realistico allora io mi aspetterò di poter seguire delle indicazioni per questo riempimento volti a creare qualcosa di più possibile vicino al reale se sto vedendo un horror che ne so e mi si dice Ann senti un rumore dietro l'angolo mi aspetterò di tutto e se è un horror magari fantascientifico potrebbe essere un mostro potrebbe essere qualunque cosa un vento maligno qualunque cosa però queste istruzioni è molto importante che siano individuate che fanno parte un po' di quello che i semiotici chiamano il patto il patto alla base della nostra fruizione e che peraltro è stato ampiamente seguito anche nelle ricerche che sono state fatte in altri ambiti anche nell'ambito artistico pensate pensate all'attenzione che a un tema come questo Yoko Ono ha dedicato come peraltro emerge in più punti e anche in una intervista che aveva rilasciato dove si spingeva a dire che il risultato fosse sempre una interpretazione perché questa opera di riempimento veniva in ogni caso fatta in maniera tale che il risultato finale non era più quello di partenza dell'autore ma era sempre un'interpretazione lei dice quando lo spartito ci dice pianissimo devi realizzare questo pezzo pianissimo quanto pianissimo deve essere e dipende da te tu che sei l'interprete lo puoi decidere e tu lo farai pianissimo ecco quindi l'idea che queste istruzioni che lo scrittore l'artista fornisce debbano essere rispettate è importante peraltro questa stessa copertina di Grapefruit appunto di Yoko Ono lo mostra perché che cos'è questo in realtà è un libro di istruzioni un libro di cui l'alleggerimento è totale è totale perché non viene neanche diciamo creato un contenuto leggero vengono create forse come tante figurine forse degli scheletri di istruzioni che vengono consegnati ai fruttori e che chiunque li riceva può fare arte quasi il se vogliamo il creatore scompare frammentandosi in tutti in tutti i potenziali creatori che di fatto si identificano con i fruitori e questa è un'idea geniale bellissima che ovviamente è estrema ma che mi sembrava interessante provare in ogni caso a sondare anche perché scusa se mi ripropongo ma di nuovo anche perché questo sottolinea molto bene come in fondo l'alleggerimento e in effetti diciamo così i due lati della dinamica fantastica se la potessimo chiamare così cioè chi elabora gli oggetti della fantasia cioè lo scrittore l'artista e l'altro lato è chi riceve questi oggetti beh sostanzialmente si vede come l'alleggerimento poi sia un passaggio fondamentale una specie di strumento che dà garanzia ulteriore garanzia mi verrebbe da dire alla condivisione perché da una parte la letteratura ha tutta questa serie di possibilità che sono date da come dicevi tu prima qualcosa che viene tolto da parte del lettore qualcosa che il fruitore aggiunge in altri casi qui questo è un esercizio diverso che come dire andrebbe fuori dalla letteratura quindi qualcosa che rientra in un altro tipo di pratica artistica però mostra molto bene come appunto l'utilizzo del linguaggio al minimo sia a sua volta ancora più importante strumento per ottenere questo tipo di contatto di possibilità che si crea e quindi di nuovo il punto come dire la chiave della leggerezza individuata all'inizio e ripresentata a un certo punto e che torna fuori ancora mi sembra davvero uno degli elementi più forti da considerare non il solo ovviamente non il solo certo però ha questa forza non so se tu sia d'accordo sì sì sono assolutamente d'accordo e per quanto sia estrema poi questa proposta mi sembra che metta proprio in luce qual è il gioco che si sta facendo peraltro provando a vederlo nella sua molteplicità di realizzazioni questo funzionamento della fantasia potrebbe anche essere spiegato diversamente per esempio Rodari in questo libro bellissimo bellissimo lo consiglio a tutti che si intitola grammatica della fantasia dove addirittura spera che possa un giorno presentarsi una fantastica oltre a una logica vedete la logica è limitata l'abbiamo già vista con Russell adesso mi sentiscono i miei colleghi logici forse ci rimarrebbero un po' male però diciamo la logica forse giustamente anche funziona con delle regole molto precise molto precise invece la fantastica funziona con delle regole che possono anche darsi di per lì e quindi questo sarebbe un buon motivo per non ritenerle neanche delle regole no? Per esempio Rodari si domanda ma come si fa a creare qualcosa che prima non c'era e lui dice ma che domande in mille modi in mille modi per esempio lui dice ci sono delle cose bellissime che si chiamano gli errori creativi bellissimi no? Lui aveva lavorato moltissimo con i bambini aveva fatto tante lezioni ai bambini proprio stando con loro in classe se ne danno anche diverse registrazioni su YouTube se vi capita guardatele perché sono proprio belle lui era serissimo cioè si occupava di fantasia in uno dei modi più seri che si potrebbero immaginare e a volte faceva questo gioco no? con i bambini per cui cominciava una storia una storia notissima e provava a cambiare qualcosa tipo c'era una volta una bambina che si chiamava Cappuccetto Giallo i bambini lo corrigono no? Rosso ah sì Rosso dunque suo papà la chiama ma no non il suo papà la sua mamma ah giusto la chiama e le dice vai da zia Rosina a portarle no va dalla nonna non dalla zia ecco qui vedete i bambini come sono conservatori no? cioè la struttura della storia non si cambia c'è una bambina si chiama Capuccetto Rosso c'è sua madre c'è sua nonna c'è il bosco c'è il lupo basta poi volente uno può dire che la bambina le portava le mele o che portava la torta o che le portava il pan la marmellata però sulle cose importanti i bambini non scherzano e questo era un elemento che a Rodale interessava moltissimo e che poi peraltro ritroviamo anche negli studi che gli psicologi hanno fatto sui bambini e sulla fantasia perché i bambini hanno bisogno non sono tanto colpiti dal fatto che quello che viene loro raccontato sia fantastico sia reale anche perché non posseggono ancora le distinzioni che poi nel mondo adulto solitamente si acquisiscono crescendo però vogliono che diciamo l'impalcatura della storia non sia toccato e oltre a questo Rodale lavora anche su quelle su quegli errori che quando sono commessi possono aprire porte a nuove fantasie lui pensa per esempio al paese di Lamponia dove c'è l'errore perché si pronuncia male o si scrive male la Lapponia e la Lamponia che cos'è? è un paese profumatissimo pieno di Lamponi che se ci pensate è proprio bello o pensate invece a quegli errori che poi sono diventati veramente famosi sono passati alla storia però si sbaglia e scrive che le scarpette di Cenerentola sono di verre anziché di verre la verre in francese è la pellicetta quindi praticamente Cenerentola doveva avere delle babbucce che sono anche ben poco eleganti per una tipo Cenerentola che era vestita bene quella sera e però l'errore consente di dare a Cenerentola queste scarpine di vetro che se ci pensate diciamo sono diventate bellissime trasparenti di cristallo addirittura le scarpe di cristallo la cosa più fantastica che si possa immaginare ebbene sono frutto di un errore perché da verre si pronunciano nello stesso modo ma si scrivono uno vaire e l'altro verre quindi lei ha queste piccole scarpine di verre che fanno sì che lei sia poi diventata una delle donne calzate meglio e sapete che il rapporto delle donne con le scarpe non è mai un rapporto che va sottovalutato neanche nel caso di Cenerentola e in quel caso lì guardate un po' che belle scarpe che si è ritrovata per un errore creativo gli errori creativi si danno in moltissimi anni io ve ne ho citati due molto molto giocosi e letterari ma se ne danno nell'arte se ne danno nella moda se ne danno nel design di errori che sono diventati dei capolavori dei capolavori e oggi non vorremmo mai tornare indietro perché rendono se volete quell'errore quella particolarità quella creazione diversa o difettosa o non voluta a seconda di come si vuole concepire questo errore unica e bellissima no? cioè le scarpe di Cenerentola sono sicuramente nessuno ha mai indossato le scarpe di vetro ma a lei le diamo e anzi le abbiamo invidiate tutte qui si vede questo pensiero questo diciamo concetto che poi viene spesso associato a quello di fantasia che è quello relativo al pensiero creativo e che cosa sia questo pensiero creativo e come si distingua dal pensiero che invece crediamo di conoscere meglio che è quello intelligente il pensiero intelligente come si distingue da quello creativo c'è uno studioso che si chiama Torrance che ha molto studiato il pensiero creativo e che ha addirittura creato un test quello che si chiama il test del pensiero creativo che dice che mentre l'intelligente dà le risposte giuste il creativo è quello che considera tanti dettagli considera tante situazioni e non dà una risposta ne dà tante queste risposte magari non sono proprio la risposta che si combina come la tessera di un puzzle al buco che vogliamo riempire ma non importa non importa perché fa delle mosse importanti il creativo che magari non sono apprezzate da tutti che magari non coprono tutti gli spazi lasciati liberi dalla tessera che manca ma a volte si rivelano anche come più interessanti e pensate quanto l'arte su questo abbia lavorato moltissimo perché ovviamente non è tanto il pensiero intelligente quello che può creare qualcosa di davvero unico anche perché creano poi sempre le stesse cose quali quelle giuste invece il pensiero creativo riesce a creare effettivamente qualcosa di utile anche in altri ambiti non solo in quello per il quale erano stati pensati inoltre questo lavoro sul pensiero creativo si è poi anche declinato in tentativi di capire come attivarlo questo pensiero creativo cioè è qualcosa in cui noi ci possiamo allenare un po' come diventiamo più bravi a disegnare se proviamo a disegnare tante volte i bambini si fanno disegnare per esempio a scuola fa parte anche del loro sviluppo cognitivo e dai disegni si capiscono molte cose ecco qui è molto interessante vedere come in realtà il il pensiero creativo è qualcosa che si può si stimolare ma paradossalmente non con la creazione stessa no? ma con qualcosa di diverso e qui c'è un un passo molto interessante di Mary Shelley appunto l'autrice la la moglie di Percy Shelley che invece ha creato questo questo essere anche molto interessante quando si parla di fantasia perché come voi sapete il mostro di Frankenstein del dottor Frankenstein è stato creato con parti diverse pezzi diversi così come abbiamo visto lavora la fantasia la fantasia assembla pezzi che non necessariamente sono dello stesso individuo ecco quando Mary Shelley scrive Frankenstein poi nella introduzione alla seconda edizione scrive un passaggio molto interessante che adesso vi leggo qui volevo solo pregarvi di guardare come sotto il titolo si è indicato un passaggio da Paradise Lost in cui la domanda ultima è did I solicit thee from darkness to promote me no? è la domanda che rivolge la creatura al suo dio al suo creatore ecco questa è la domanda che Mary Shelley ha ritenuto di apporre nel frontespizzo della sua opera e che è molto interessante anche per capire il Frankenstein in sé il mostro ebbene in questa citazione che proprio riguarda la differenza da scoprire e inventare su cui mi chiedeva di spendere qualche parola Davide prima Mary Shelley dice che per dirla con Sancho Panza ogni cosa deve avere un inizio e quell'inizio deve essere collegato a qualcosa che è successo prima gli hindù hanno dato al mondo un elefante che ne sostenesse il peso ma hanno una tartaruga a sorreggere l'elefante la capacità di inventare bisogna metterlo con umiltà non consiste nel creare qualcosa dal nulla ma dal caos bisogna innanzitutto procurarsi il materiale l'invenzione può dare forma a una sostanza scura e informe ma non può creare la sostanza stessa quando si tratta di scoperte e invenzioni anche di quelle che pervengono all'immaginazione ci si ripresenta la storia dell'uovo di Colombo l'invenzione consiste nella capacità di intuire le possibilità insite in un soggetto e nella capacità di plasmare e dar forma alle idee che vengono suggerite ecco qui c'è un'idea di creazione che ha quasi a che fare con il mettere in ordine se volete il caos c'è il caos il caos e poi che cosa vuol dire creare qualcosa vuol dire provare a prendere degli elementi in questo caos e assemblarli e metterli lì e questo spiega per esempio perché lungi dall'avere la mente vuota gli scrittori e gli artisti spesso ce l'hanno pienissima pienissima hanno visto moltissimo hanno letto moltissimo anche solo per scrivere due pagine e questo peraltro è un concetto che poi riprende lo stesso Calvino in una delle sue interviste che aveva rilasciato quando gli si chiedeva se il 2000 adesso siamo vent'anni passato il 2000 se nel 2000 saremmo ancora stati capaci di fantasia e Calvino dice ma non bisogna neanche affidarsi troppo a questo imperativo della creatività e paragona la fantasia alla marmellata e dice la marmellata è una cosa bellissima ma bisogna metterla su una fetta di pane e la fetta di pane che cos'è e se volete tutta quella concretezza che noi abbiamo già che abbiamo imparato a scuola che abbiamo imparato a memoria di cui ci hanno riempito la testa di cui abbiamo riempito le pagine ecco tutto quello che sembra che noi passivamente abbiamo assimilato e che c'è stato imposto di assimilare quindi che non siamo stati liberi di scegliere la libertà l'abbiamo toccata prima parlando del lavoro degli scrittori ecco questa scelta che non è stata libera di assimilare questi materiali e poi quello che rende possibile è la fantasia stessa perché la fantasia emerge da una base solidissima se volete come dicevamo prima è una leggerezza che si può acquisire solo da un peso da un peso enorme stavo pensando una cosa mi chiedevo se in effetti ti saresti d'accordo a considerare questo questa possibilità mettiamola così cioè se in effetti potremmo pensare alla fantasia nei termini di un'invenzione supponendo che questa stia a metà strada tra il conservare e il variare le cose perché in effetti il caos vuol dire che tu hai già la materia infatti Mary Shelley dice tu non inventi la materia ma in effetti gli dai una forma e in effetti tu puoi a tua volta come dire fermarti lì tra quello che c'è e lasciarlo così com'è oppure introdurre delle variazioni e ottenere qualcosa che poi viene fuori questo aiuterebbe anche molto a capire il rapporto e la sovrapposizione tra fantasia e immaginazione in effetti e anche a capire poi se tu dici sei scoperta un'invenzione in effetti oscilli tra l'uno e l'altro anche per questo insomma sì io penso che questo sarebbe un buon modo di vedere la cosa perché questo diciamo tra conservare e inventare tra affacciarci su un mondo che c'è già e che possiamo scoprire ma che c'è già e peraltro tutti noi siamo ospiti del fatto del mondo vediamo una realtà che c'è indipendentemente da noi e poi la combiniamo diversamente abbiamo appunto questa arte combinatoria che vuole che possiamo giocare un po' con pezzi di mondo alleggerirli e creare se volete cose nuove fare giochi nuovi Kendall Walton che ha scritto questo libro che è diventato poi un best seller tra i filosofi diciamo che si intitola Mimesi come fare finta My Mises may believe parla di questa attività che noi facciamo sia come creatori ma poi anche come fruitori come dei giochi di fare finta Games of may believe dice quando noi facciamo finta proprio ci affacciamo su un mondo che c'è già e di fatto giochiamo attribuendo dei ruoli diversi agli oggetti che incontriamo lui parte ha una teoria che parte dai bambini e arriva agli adulti tutto visto con questa lente del gioco così come i bambini fanno finta che ne so che questa penna sia un telefono e quindi cominciano pronto ciao nonna come stai tutto a posto adesso arrivo a trovarti mi prepari la merenda eccetera ma questa penna non è un telefono che cosa fa il bambino fa finta che la penna sia un telefono fa finta che la bambola sia un bambino fa finta che un ceppo di legno che incontra nel bosco sia un orso quindi quando lo vede dice mamma mia quello quell'orso mi vuole mangiare adesso gli do un po' di miele eccetera ecco dice gli adulti quando ammirano le des ginesi url'herbe quando leggono Anna Karenina fanno la stessa cosa semplicemente cambiano quelli che Walton chiama i supporti quando siamo piccoli appunto e giochiamo che penne sono telefoni che bamboli sono bambini da grande io gioco partecipo anzi partecipo al gioco che Tolstoi mi invita a fare con Anna Karenina quindi faccio faccio finta che esista una donna che si chiama Anna Karenina che è sposata con Karenin che si innamora di Vronsky poi con Rothky non funziona si butta sotto il treno eccetera eccetera questa teoria è una teoria che i filosofi hanno considerato bellissima molti filosofi hanno considerato bellissima perché tra quel motivo l'arte abbiamo visto all'inizio quello di Russell perché dicendo che si fa finta Walton non mette nel suo armadio nel suo inventario ontologico cose come Anna Karenina cose come i dipinti in maniera ontologicamente impegnata eccetera eccetera tiene il suo inventario bello libero minimalista come quello di Russell ma spiega tutti questi fenomeni a un livello differente il livello del make non è che non dia importanza a questi fenomeni li considera della massima importanza però non si impegna nei loro confronti dice che Anna Karenina per esempio è una donna solo nel gioco di fare finta così come questa penna è un telefono solo nel gioco di fare finta questa penna non è un telefono è una penna se uno vuole un telefono deve procurarsene questa non va bene così come se uno vuole incontrare una signora per fare due parole con Anna Karenina capita male e però diciamo riesce a renderne conto e quindi ha un atteggiamento meno sbrigativo di quello che per esempio Russell aveva fatto ovviamente poi i tipi di opere con i quali noi abbiamo a che fare questo è anche un punto su cui mi sono un po' impegnata nel libro variano molto ci sono opere come che ne so Robinson Crosu o Moby Dick che cominciano come delle storie vere o meglio usano la carta della storia vera un po' come inizio come spunto narrativo e poi però raccontano una storia di finzione per quanto siano stati ispirati da fatti realmente accaduti così come poi ci sono anche opere come Pinocchio o Alice nel Paese delle Meraviglie che sono completamente inventate o pensiamo alle opere invece che si chiamano di romanzo verità o New Realism pensate a Carrère pensate al nostro Roberto Saviano o Nicola la Gioia eccetera eccetera no? C'è quegli autori che invece vogliono raccontare la realtà incastonandola in una cornice di fantasia o di finzione c'è la realtà ma è se volete dissezionata si fa quasi l'anatomia della realtà si alleggerisce la realtà e questo alleggerimento ovviamente la rende simile per quanto non assimilabile alle opere di fantasia proprio sulla scorta di questi aspetti che hai elencato e considerando la grande varietà di produzioni artistiche che possono offrirci la possibilità di fare esperienze e di giocare se vogliamo usare la proposta della teoria di Walton però appunto cioè di poter fare esperienze a partire dalla fantasia è interessante considerare un aspetto che nel libro tu presenti bene e che a questo punto diventa anche una domanda come dire doverosa da porre cioè possiamo imparare dalla fantasia e se sì in che modo la fantasia diventa uno strumento che ci concede queste possibilità perché in effetti appunto le casistiche delle arti come ci hai raccontato fin qui e gli stessi generi letterari ci invitano a fare questa riflessione questa è la domanda più difficile alla quale si pensa che ci sia una risposta molto immediata sì affermativa no pensate a quante opere di fantasia ci fanno leggere da quando siamo piccoli sarebbe veramente un'assurdità se ci facessero delle cose che ci facessero leggere delle cose che non ci insegnano niente quindi sembra che si possa imparare è un po' più difficile riuscire a spiegare che cosa voglia dire imparare allora sono stati fatti anche molti esperimenti molti studi sperimentali psicologici per spiegare che cosa di fatto si possa dire che si impara dalla fantasia allora la fantasia nonostante quello che pensava per esempio Platone cioè che potesse essere pericolosa se non ben addomesticata è qualcosa di fondamentale per il nostro sviluppo razionale ho parlato tanto dei bambini in questa chiacchierata insieme abbiamo visto come siano importanti i disegni che fanno i bambini come siano importanti le cose che raccontano i bambini perché perché con la fantasia in realtà noi lungi dal mettere in difficoltà la nostra razionalità la stimoliamo ci sono questi studi molto interessanti di Damasio o di Rizzolatti che mostrano come la capacità di prefigurarsi scenari alternativi o fantastici sapere cose che potrebbero accadere come avrebbe detto Aristotele come dice Aristotele nella poetica per cercare di definire la poesia a differenza della storia che invece racconta le cose che sono e con questa nostra capacità di prefigurarci scenari possibili è qualcosa di fondamentale per il nostro agire razionale se noi non ci prefigurassimo scenari possibili saremmo meno razionali e non più razionali inoltre la fantasia o la capacità di cambiare prospettiva noi abbiamo sempre la nostra prospettiva sul mondo io vedo il mondo dal mio punto di vista ma la fantasia le opere di fantasia mi consentono di cambiare il punto di vista di capire che cosa succederebbe per esempio se io fossi Davide del Sasso che cosa succederebbe come vedrei la mia vita come vedrei gli altri ecco questa è un'attività molto complessa molto importante perché noi se proviamo per esempio ad immaginare che cosa vuol dire nel mio caso essere Davide del Sasso io per esempio capirei che quello vuol dire che mi sono per esempio banalmente essere un uomo io sono una donna tu sei un uomo vedrei una prospettiva differente capirei forse meglio te ma capirei anche meglio me stessa perché tante difficoltà che evidentemente mi caratterizzano io da dentro non riesco a vederle la distanza la stessa distanza che gli impressionisti chiedevano ai loro fruitori per ammirare l'opera nei confronti della nostra esistenza noi non ce l'abbiamo mai perché ci siamo sempre dentro siamo invischiati come si fa ad allontanarsi dalla propria esistenza e invece con questo tipo di fruizioni noi lo possiamo fare poi ci sono tutti gli studi sull'empatia quanto quanto addestramento emotivo e sentimentale per usare il titolo di un di un opera di Flaubert quale educazione sentimentale noi riceviamo grazie alla fantasia spesso molte emozioni le abbiamo conosciute prima dai libri e dai film che nella realtà no? possiamo vedere che ne so assistere a lutti quando magari siamo stati così fortunati da non essere dei bambini a cui i lutti sono già capitati in famiglia assistiamo a omicidi magari nella realtà si spera non ne abbiamo visti tanti o magari addirittura nessuno moltissimi si innamorano prima sulle pagine forse più quelle della mia generazione adesso i giovanissimi non lo so in ogni caso si innamorano magari in maniera virtuale prima che in maniera reale questo è sempre un discorso molto complicato quello di paragonare il virtuale al reale perché il virtuale è una forma di reale quindi diciamo potrebbe essere un discorso non così semplice da fare però diciamo moltissimi per esempio io ho conosciuto sicuramente i sentimenti più importanti sulle pagine dei libri ben prima che la realtà me li facesse conoscere non è stato uguale ma è stata ovviamente una forma di allenamento ho capito ho acquisito una forma di sapere come se volete una conoscenza che non è una conoscenza proposizionale ma è una conoscenza di sapere un po' l'effetto che fa pensate quando descrivono poi spesso i personaggi sono descritti anche per le sensazioni che provano e quello che sento forse posso ringraziarvi con tutte queste diciamo questioni delle quali abbiamo parlato ma sono ben lieta di ascoltare altre questioni da parte tua Davide da parte di chi ci ha ascoltato sono qui ovviamente io ho soltanto toccato alcuni dei punti di cui mi occupo nel libro capite bene che la porta della fantasia come forse si vedeva anche nella prima delle slide che vi ho mostrato è una porta che dà su un mondo immenso e chiaramente non posso pretendere in poco tempo di averlo perlustrato tutto ma almeno di avervi dato qualche idea grazie grazie davvero Carola e soprattutto grazie perché è stato molto interessante riuscire così a soffermarci su alcuni aspetti riguardo a un tema che certamente è molto ampio ma che sicuramente poi può essere approfondito ancora di più con il tuo libro però come tu dicevi adesso abbiamo ancora tempo e c'è la possibilità di insomma presentare delle domande se avete qualcosa che insomma vi incuriosisce chi sta seguendo e partecipando se ci sono dei così anche dei commenti o delle riflessioni attorno ai temi che abbiamo affrontato io io volevo io volevo unirmi a ringraziamenti Carola veramente questo per questo interessantissimo intervento è davvero prezioso rifacendomi però a quell'invito che tu hai fatto all'inizio di riflessione su tornando ancora al grande messaggio che Calvino ha lasciato ai posteri e rispetto alla riflessione che facevi all'inizio su la sua sospetto se posso chiamarlo così rispetto alla possibilità che un flusso adesso correggimi magari ovviamente se si interpreto male un flusso continuo potesse spegnere la fantasia o comunque potesse avere un'influenza rispetto anche a quella che forse tu prima hai definito la sopravvalutazione della fantasia forse però non era adesso queste sono sempre questioni impossibili da dirimere perché Calvino non è più con noi però forse lui preconizzava un futuro nel quale un flusso continuo di dati di immagini di proiezioni potesse in qualche modo influenzare la facoltà immaginativa che poi è un sospetto vecchio come antico per essere più precisi non è forse però anche una riflessione che forse anticipava parlando invece della creazione contemporanea l'influenza che ha il virtuale tu prima dicevi anche che il virtuale è una forma di reale quindi non è forse questo flusso costante di immagini al quale siamo costantemente immersi non ha un'influenza sulla nostra facoltà immaginativa cioè fantastichiamo come si fantasticava nell'85 o forse cominciamo già a segnare l'influenza della grande intelligenza collettiva che poi la rete perché poi è solo un modo come diceva ecco di mettere le intelligenze in connessione grazie grazie Giulio per questa domanda è una domanda molto difficile è molto bella allora parto dalla fine della tua domanda immaginiamo come si immaginava nell'85 allora per immaginare bene io penso abbiamo bisogno di tempo e di vuoto il vuoto che tanto spaventava gli antichi è anche la condizione del movimento se uno è troppo pieno troppo imballato ovviamente fa fatica anche a far muovere le idee o le immagini mentali che siano quindi sicuramente il fatto di essere sovrastimolati può essere una limitazione perché appunto non a caso ci sono tutte queste arti del riordino in giro perché si vuole fare un po' di selezione perché ci sono troppe cose abbiamo un po' una mania e anche inconsapevolmente di conservare tutto anche nella testa e quindi abbiamo se volete delle fantasie che sono un po' più in difficoltà però l'osservazione che io mi sento di fare ma che ovviamente è molto criticabile è la seguente secondo me quello che si è perso o meglio quello che spesso si perde non mi sentirei di fare tanto un discorso dall'85 adesso ma mi sentirei di fare più un discorso forse esistenziale quello che spesso si perde è un punto su cui insiste spesso Wallace ed è la consapevolezza c'è quella bellissima lezione che Foster Wallace aveva fatto agli studenti che uscivano dall'università che ha preso poi il titolo di questa è l'acqua this is water che parla di questi due che comincia con questi due pesciolini che nuotano tutti contenti a un certo punto incontrano un pesce anziano e gli dice ciao pescetti come state com'è l'acqua oggi e loro si guardano e dicono che cos'è l'acqua ecco spesso noi non abbiamo più la consapevolezza che è anche che non è tanto sapere chi si è dove ci si trova che cosa si ha ma è anche solo la capacità di fermarsi la consapevolezza la capacità di fermarsi con occhi aperti o chiusi chiuderli ogni tanto non farebbe male ma fermarsi e aspettare lasciare un po' spazio al vuoto alle cose all'ordine anche quel discorso che faceva Mary Shelley di mettere ordine nel caos invece la mancanza di consapevolezza che spesso io noto è quella che vuole che invece noi ci facciamo molto trascinare perché comunque la consapevolezza è faticosa lasciarsi trascinare dalla corrente per certi versi è più semplice e quello che a me un po' è sembrato e che probabilmente è anche un segno dell'invecchiamento mio mi rendo conto e che questa velocità totale costringe a non fermarsi più su niente e questo ovviamente non fa tanto bene per la fantasia magari assimiliamo fantasia altrui magari troviamo anche cose bellissime non voglio dire che non mi sto pronunciando sulla qualità mi sto più pronunciando sulla direzione che potrebbe anche essere qualcosa che decidiamo invece di dare noi e quindi ecco io penso che infatti su questo penso che meriti davvero rileggere possibilmente in sequenza velocità e lentezza vederli come due ritmi diversi che non sono incompatibili no? e sono in realtà secondo me due ritmi che funzionano benissimo se alternati non so se ho risposto in maniera generostiva ma la domanda era difficile no era sì certo più no grazie davvero sono tante poi le riflessioni che da qui potrebbero partire ovviamente però è un'indicazione di scenario visto poi visto poi il frangente che stiamo attraversando insomma poi anche grazie per aver scelto esempi diversi ma davvero iconici nella capacità di rappresentare i potenziali il fare mondi che poi la fantasia evoca mi viene in mente anche l'accostamento tra il motto della fantasia al potere no? il sessantottino e poi invece la proposta di Yoko Ono che di quella stagione è in fondo figlia quindi è davvero davvero prezioso davvero prezioso il percorso che hai pensato per noi grazie grazie a te c'era un aspetto che così ha attraversato la tua presentazione carola questa sera che hai continuamente menzionato e che forse potrebbe essere così qualche minuto ripreso che è quello poi della possibilità no? della possibilità che è offerta dalla fantasia o se preferisci quello che è il in effetti il il tema ancora più più preciso che al quale stavo pensando prima anche quando Giulio ti proponeva questa condizione di così di rapporto tra produzione fantasiosa chiamiamola così anche se è brutto non è una parola corretta ok ma la produzione il prodotto della fantasia e il rapporto con le immagini che ci stanno attorno e allora appunto è interessante quella riflessione anche che tu proponi sulla condizione umana e su quello che è un rapporto tra fantasia e contraddizione perché questo è anche interessante perché in fondo la fantasia cioè come tu la tratti nel libro e anche quello che hai mostrato questa sera sottolinei come la fantasia sia qualcosa che permette di avere delle possibilità ma che poi ci porta anche per esempio gli errori creativi dei quali parlava Rodari sono anche questo sono anche delle dinamiche di contraddizione che però non sono a sfavore delle nostre possibilità ma in realtà rientrano nella generazione e rigenerazione di nuove possibilità la fantasia come risorsa questo è anche un elemento che è emerso continuamente no? non so se sì e qua se vogliamo ci si collega anche al tema di questi incontri di Via Farini perché l'errore è sicuramente connesso al fare per fare degli errori bisogna fare qualcosa è difficile che faccia degli errori che non fa niente ed è interessante come gli errori possano aprire anziché essere visti semplicemente come una cosa non giusta quindi vedervi in negativo possano essere visti come delle alternative se ci pensate così anche funziona la vita no? perché per fortuna sono pochi quegli errori che non hanno un seguito quegli errori che diciamo segnano degli stop nella vita delle persone sono estremi e sono per fortuna appunto dicevo pochi molti altri errori in realtà si risolvono in un certo senso come nuovi percorsi si pensava di avere un determinato percorso succede un errore un incidente ci sono più tanti modi di definirli e sono le possibilità e le possibilità e qui c'è anche una connessione con quello che dicevo prima per cercare di rispondere a Giulio le possibilità fanno da sempre paura generano angoscia perché è più semplice dire io devo andare lì ho quella meta ho questo obiettivo da conseguire e non invece avere se vogliamo tante cose davanti perché perché siamo chiamati noi a scegliere e scegliere vuol dire poi se io scelgo A non ho scelto tutte le altre cose e questo ha dei costi per me di responsabilità di insomma conseguenze per quello che la mia scelta implicherà tutto questo è presentato dalla fantasia e anche se noi pensiamo all'inizio di questa conversazione quando paragonavamo le storie in quella vignetta di Dylan Dogg le storie alla realtà ecco la realtà è quella che è ci può non piacere la possiamo modificare certo ecco per esempio com'è che facciamo modificare la realtà se non abbiamo la fantasia perché se noi non sappiamo prefigurarci scenari alternativi non possiamo neanche cambiare ovviamente perché come si fa a cambiare se quello che c'è è quello che è e basta invece se io sono capace di prefigurarmi qualcosa di differente che ritengo sia migliore o che ritengo sia interessante provare ad avere eccetera eccetera allora avrò una spinta per il cambiamento e la cosa interessante è che non c'è soltanto un cambiamento nella realtà ma c'è anche in chi la opera e qui vedete quindi come quella distinzione che noi più volte abbiamo dato forse un po' per scontata tra il creatore lo scrittore l'artista il fruitore eccetera con in mezzo l'opera in realtà è un continuo interloquire perché anche lo scrittore non solo cambia quando fa quello che fa ma poi anche quello che fa lui e che consegna ai suoi lettori diventa qualcosa di differente nelle mani dei suoi lettori tant'è che se adesso noi avessimo voglia di parlare che ne so di Madame Bovary potremmo anche andare avanti fino a domani perché io potrei dirvi che è la donna più stupida di cui io abbia mai letto magari invece Davide mi dice ma guarda che avere una vita segnata dei debiti non è mica uno scherzo cosa poteva fare quella poveretta e magari Giulio invece dice che avevano ragione Leon e Rodolfo non volerne sapere di lei e a darsi la gamba appena lei li cercava alla fine che forse l'unico brav'uomo di quel romanzo è il povero Charles che non a caso piange sua moglie e morirà un anno dopo perché non riuscirà a superare il lutto assolutamente sì grande grande importanza quelle che sono certamente le possibilità come dire pensare a dei come se in effetti e questo poi voglio dire anche la ricerca la stessa avanzamento delle possibilità di indagine nell'ambito delle scienze delle discipline teoriche è legato anche a questo quindi comunque mi taccio e vedo la mano alzata di Elio Grazioli che invito a intervenire grazie sì è un po' tardi mi chiedo scusa dello sforzo ulteriore che chiedo però è stato molto stimolante ringrazio davvero di queste in particolare mi hanno interessato molto le distinzioni che sono state introdotte che hanno permesso di affrontare cioè di aggregare proprio tanti tanti temi come quello dell'errore e così via a me è venuta in mente una cosa che volevo proporre insomma perché ho pensato il termine fantasia effettivamente fa molto pensare a Rodari e ai bambini nell'arte contemporanea credo che sia un termine un po' imbarazzante la butto lì così non mi viene in mente niente di positivo nell'arte contemporanea oggi che possa essere ricondotto tale e quale alla fantasia però insomma questa era solo la premessa per dire sono andato a cercare una parte molto interessante di quello che lei ha detto mi ha portato in una direzione che è quella del tema dell'ignoto di cui io non confesso che non sento più tanto parlare e un po' mi dispiace e penso che forse è un tema del passato non lo so perché gli artisti del novecento ne hanno parlato tantissimo almeno naturalmente una parte degli artisti non si può generalizzare però è un tema molto curioso c'entra la fantasia non è un viaggio nell'ignoto invece che nel come dire nel bricolage dei materiali esistenti e dell'idea io sono un po' anti-calviniano se posso confessarlo e ogni volta che sento la parola leggerezza mi viene qualcosa da reagire mi piace di più la pesantezza mi piace di più questa cosa qui di andare a cercare nella sfida insomma di 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 usare gli strumenti della conoscenza per non so cercare trovare appunto tutto quello di cui lei ha parlato stasera l'ignoto ecco se le dice qualcosa e vuole commentare semplicemente la ringrazio molto per questo intervento a parte che io credo che Calvino fosse una delle persone più pesanti che ci fossero anche proprio a vedersi poi faceva anche un lavoro molto pesante leggeva tutti questi manoscritti con molta cura con dovizia segnava le cose quindi io penso che anche e poi appunto lui è il primo che dice che ci vuole una base pesante perché la leggerezza abbia luogo quindi forse lo si può anche provare a vedere in un altro modo comunque anche io con Calvino ho sempre un rapporto che non capisco fino in fondo e proprio per questo forse non me ne riesco a liberare l'ignoto l'ignoto ha ragione è un concetto di cui non si sente più tanto parlare è molto interessante forse fino a poco tempo fa lo trovavamo poco affascinante perché vivevamo nell'illusione di poter conoscere quasi tutto pensiamo alle modalità di conoscenza sia se vogliamo quella da poltrona cioè quante cose si possono conoscere senza muoversi sia quando si poteva viaggiare tutte le cose che si potevano vedere avendo l'illusione che in quel modo l'ignoto venisse eliminato ma era un'illusione perché anche se si vedono molti posti questo non vuol dire che li si conoscano e in questo io ho sempre trovato appunto affascinante la figura di Salgari oltre che per la fine drammatica ma perché è stato capace di coltivare questo fascino dell'ignoto che poi è qualcosa che ha ragione lei quando dice che la fantasia la si associa spesso ai bambini però invece c'è un elemento che caratterizza gli esseri umani e che forse non è mai sufficientemente enfatizzato che è la curiosità la curiosità non solo delle cose che non conosciamo ma anche solo banalmente per gli altri per noi stessi pensiamo a questo anno tremendo che abbiamo avuto così difficile come di fatto ci abbia fatto trovare curiosi delle cose più banali anche solo di quello che fa quello davanti la gente curiosava nelle case degli altri la curiosità o anche verso se stessi pensiamo infatti e su questo purtroppo la nota è drammatica quanto le cose che i soggetti in questo anno di reclusione hanno scoperto su loro stessi li abbiano destabilizzati nella difficoltà i disagi sono molto a livello psichico sono molto aumentati perché i soggetti non più sufficientemente distratti dalla velocità dal mondo dalle cose che si facevano ci si spostava continuamente si poteva andare in Giappone in una settimana poi si tornava passando per New York c'è una cosa assurda se vogliamo ecco non più distratti abbiamo avuto la possibilità di curiosare anche solo dentro noi stessi e abbiamo trovato magari degli abissi tremendi no? tremendi questi sì indagati dall'arte pensiamo al voice che il mondo c'è l'uomo è un abisso se ci guardi dentro ti perdi ti perdi e quindi secondo me questo questo turbamento che peraltro nelle misure più importanti io mi auguro possa essere riassorbito e possa tornare magari uno spirito più sereno però mostra come quello verso l'ignoto sia una propensione che spesso si è cercato di eliminare perché fa paura perché l'ignoto è proprio un elemento che nel momento in cui noi dobbiamo provare ad affrontarlo ci fa sentire senza armi inadeguati no? perché già nel concetto stesso di ignoto noi ci poniamo nei confronti di qualcosa che non conosciamo e saremo in grado di conoscerlo saremo capaci di accettarlo saremo sufficientemente forti per per lustrarlo ecco questo è qualcosa che affascina ma che spaventa e di solito gli uomini nei confronti di cose che affascinano e spaventano tendono magari a fare un passo indietro pensiamo alle grandi dispute filosofiche su concetti analoghi però la ringrazio perché questo è un punto molto molto bello che spesso si mette da parte quindi la ringrazio grazie a lei ok se non ci sono altre domande commenti io ringrazio chi ha partecipato questa sera ringrazio nuovamente Carola Barbero per la conversazione che abbiamo avuto e per la magnifica serie di precisazioni e stimolanti osservazioni su un tema davvero molto ampio quale è quello della fantasia ma che è stato ben presentato durante questo incontro e ringrazio a mia volta ancora doverosamente l'archivio Via Farini segnalando che gli incontri proseguono ancora per la seconda parte di questo ciclo appunto con le presentazioni della settimana prossima vi ringrazio anch'io ringrazio tutti è stato un momento molto bello una conversazione che mi arricchita parlandone con voi ascoltando le vostre domande e poi comunque parlando non sembra ma uno capisce anche meglio dei concetti che prima aveva in maniera oscura quindi vi ringrazio per questa possibilità grazie grazie davvero buona serata grazie a tutti buona serata grazie grazie a tutti